Grazie a una capacità del motore di 1.618 cm³, il nuovo motore Energy TCI 200 prevede tecnologia all'avanguardia, come downsizing, swerve variabile, Energy Smart Management, sistema Stop & Start e riduzione dell'attrito. I costi di utilizzo del motore M5 MT sono ridotti grazie a un basso consumo di carburante, emissioni esigue di CO2 e costi di manutenzione inferiori legati alla catena di distribuzione.